Nell'epoca dei tablet, degli smartphone e della tecnologia portata di mano, convincere i bambini a sfogliare un libro rappresenta un'iniziativa lodevole. E' ciò che da alcuni giorni sta facendo a San Severo la biblioteca Padre Benedetto Nardella, gestita dai frati minori Cappuccini, in collaborazione con la libreria Favole Stelle. Il progetto è rivolto a circa 250 bambini delle scuole elementari e dell'infanzia, per un totale di una trentina di classi. Sino all'Epifania, i piccoli studenti saranno coinvolti nella lettura di un racconto natalizio e nella realizzazione di un libro con una poesia e le figure animate. I bambini potranno colorare gli spazi sul cartoncino e inserire una bustina contenente la lettera dedicata a Babbo Natale. Alla fine del lavoro ognuno avrà una copia del libro animato con la propria foto. Come biblioteca promuoviamo spesso progetti di educazione alla biblioteca e di educazione alla lettura. Quindi questo progetto natalizio rientra pienamente nella nostra attività che svolgiamo quotidianamente. Il bambino non ha l'istinto alla lettura, dobbiamo educarlo a leggere. L'iniziativa si svolge nei locali della biblioteca, che custodisce i manoscritti originali di Padre Pio e le lettere inviate da tutto il mondo al Santo di Pietrelcina. Questi locali sono stati recuperati per una grande biblioteca, ci sono oltre 30.000 volumi, e anche per ospitare il centro studi sul Padre Pio con i documenti originali dei diari dei figli, delle figlie spirituali e del processo di Padre Pio.